Bentrovati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo in provincia di Cosenza da Andrea Raggini di www.meteogiuliacci.it La situazione meteorologica vede il ritorno prepotente dell'estate, infatti nelle ore scorse è giunta l'alta pressione delle azzorre che ha riportato un tempo stabile e soleggiato, nelle prossime ore arriverà aria via via più calda grazie all'alta pressione invece di origine africana che porterà quindi almeno per i prossimi 6-7 giorni riporterà l'estate su tutta la nostra regione. Nella provincia di Cosenza nei prossimi giorni quindi sarà dominante il sole, i cieli sereni e solo qualche nuvola pomeridiana sull'alto appennino ma non sono previste precipitazioni. Nella fine settimana tra venerdì, sabato e domenica avremo temperature minime che saranno comprese tra 17-20 gradi quelle massime generalmente comprese tra 27 e 30 gradi. Ad inizio settimana le temperature potrebbero addirittura aumentare con valori massimi che nelle aree interne potrebbero sfiorare i 32-33 gradi, quindi veramente piena estate. La ventilazione risulterà debole, il mare pressoché calmo. La situazione potrebbe cambiare solamente tra circa 7-8 giorni con l'arrivo di aria più fresca ma siamo veramente lontani a queste date quindi vi rimandiamo ai dettagli sul sito www.meteogioliaci.it Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi uno splendido fine settimana.